Ho qualche domanda per lei, professore. È una vera sorpresa. Gira voce che Newt Scamander sia diretto a Parigi. So che lavora per ordine suo. Che ha da dire in sua difesa? Silente. Se avessi avuto il piacere di averlo come studente, saprebbe che Newt non è il tipo che esegue gli ordini. Si avvicina il momento, Newt. Dovrai decidere da che parte stare. Vai da qualche parte? No, ci andiamo insieme. Genio. Io non posso agire contro Grindelwald. Dovrai farlo tu. Grazie. Grazie. Grazie a tutti